Ripesi oggi gli allenamenti del Trapani FC 1905 dopo due giorni concessi dallo staff tecnico e ripesa gli allenamenti in vista della gara Trapani-Lamezia valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D Gironi che si disputerà domenica 19 dicembre 2021 alle ore 14.30 verso lo stadio provinciale di Trapani dopo il duro riscaldamento restano ancora indisponibili l'attaccante Bonfiglio e il difensore Alessio Peddigone il programma degli allenamenti provete per domani mercoledì giovedì per doppia seduta alle ore 10.14.30 venerdì allenamento pomeriggiano alle ore 14.30 e sabato alle ore 10 e rifiutura prepartita e conferenza stampa del tecnico Massimo Mongia Grazie a tutti